Di Radio Night Cafè, 600 euro in banca, dirige l'orchestra Il Popolo. Un'autocertificazione, risposte facili, dilemmi inutili. Ah, 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 cercasi, disinfettante a base alcolica, magari provo a costarei, oppure ad oro sei. E con le mascherine, tutti in fila indiana, per tutti un'ora d'aria o di corsa. La folla grida e stanca, ma dal balcone canta, partita e va a balla, 600 euro in banca. 600 euro in banca, partita e va a balla, 600 euro in banca. Io buono gocce di amuchina in quarantena, e mentre ai medici in corsia, malapena. Tutti, tutto logico lo è, per il vaccino e per il virus. Ah, 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 cercasi, disinfettante a base alcolica, e con i guanti se li apri, chissà cosa farei. Lezioni di lavaggio, chissà se usciamo a maggio, oppure un'ora d'aria o di corsa. La folla grida in spiaggia, e nel balcone mangia, partita e va a balla, 600 euro in banca. Quando qualcuno si distrae, cadono gli uomini, 600 euro in banca. 600 euro in banca, partita e va a balla, non ce n'è, perché? Perché ci son bollette, e pure fatturette, e non possiamo uscire per ora. La folla grida usciamo, e un libro ci compriamo, partita e va a balla, 600 euro in banca. 600 euro in banca, partita e va a balla, per Radio Nancata. Volendo, volendo anche in questo attore qualcosa a casa ti arriva. Siete bellissimi tutti, dai vostri balconi, dalle vostre finestre che cantate l'Inno d'Italia. Siete bellissimi tutti.